Il governo ha annunciato il suo piano straordinario per rilanciare l'economia britannica in forte crisi dopo la riapertura delle attività. Un piano di incentivi alle assunzioni e di riduzioni fiscali importanti per far crescere i consumi fermi per tre mesi e che ora stentano a riprendere. Sul fronte lavoro il ministro Sanac ha annunciato in Parlamento il job retention bonus con un bonus di mille sterline alle aziende per far tornare i dipendenti dal furlò. Grande novità anche per i nuovi assunti in tirocinio dove è stato eliminato il limite di assunzioni e per i prossimi sei mesi vi saranno incentivi di 2.000 sterline e la copertura totale degli stipendi fino a 25 ore settimanali che saranno pagate dal governo. Per far uscire dalla crisi il settore dell'ospitality e il turismo il governo abbasserà l'IVA al 5% fino a gennaio a partire da mercoledì. Confermati i buoni sconto in agosto per chi va a mangiare fuori. Il buono del 50% fino a 10 sterline sarà dato a tutti i cittadini. Tagliata anche la stamp duty la tassa sull'acquisto di immobili al 0% fino al valore immobiliare di mezzo milione da subito fino a marzo. Bonus anche per le case green con rimborsi fino al 66% per i proprietari delle case. Questa puntata è offerta da Fattoria Donnatina, il negozio delle eccellenze semplici e naturali anche online senza uscire di casa. Cercaci su donnatinastore.com Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie.